Nel 2018 si è votato per il Parlamento italiano e per il rinnovo del Consiglio regionale del Lazio. Il presidente del Consiglio regionale del Lazio e della Regione Lazio è Nicola Zimbaretti. Nelle ultime ore, esponenti in cerca d'autore del Partito Democratico cercano un posto al sole, attaccando l'opposizione sulle assenze. Allora, noi oggi vogliamo accendere un focus sull'attività straordinaria del presidente della Regione Lazio, nonché segretario del Partito Democratico, Nicola Zimbaretti. Perché, vedete, prima di dare lezioni a qualcuno, bisognerebbe poter dare il buon esempio. Ecco, dal 2018 ad oggi noi non riusciamo nemmeno a contare le assenze del presidente Zimbaretti da questo suo scranno. Perché? Perché sono troppe. Facciamo prima dirvi che su 58 sedute, e appena finita la 58esima seduta, lui è stato presente solo in 14. Non vale, non vale la motivazione delle assenze giustificate per motivi istituzionali, caro presidente. La Regione Lazio ha bisogno di te e non del segretario del PD. Ti aspettiamo, o meglio, non ti aspettiamo più. Facciamo da soli. Grazie.